Sì, io penso che sono due squadre che hanno cominciato bene, abbiamo fatto occasioni da gol noi, anche loro, e poi a parte l'espulsione, però penso che in quel momento stavamo meglio, sia fisicamente che tatticamente. No, io sono contento, il problema nostro è riuscire a trovare equilibri. Oggi ci ha aiutato molto il campo molto più largo rispetto agli altri, e quindi potremmo sfruttare qualche spazio in più. Il mio obiettivo è far crescere questi ragazzi, per me hanno talento, sono giovani, per arrivare a giocare a altri livelli devono migliorare. Il giudizio sulla Lucchese? Ma Lucchese è buona squadra, io ho visto due o tre partite, ha fatto sempre bene.